Questo che vedete è il più grande dispositivo esistente al mondo più veloce, però c'è il più grande dispositivo è scoppiato, il più grande dispositivo è appena scoppiato ma ce n'è un altro ancora più potente, pure quello è andato a male. Riccardo a fare la parola, guardate, vai domani, gabbana, doveri, guardate, 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 guardate. Vai domani, gabbana, no, 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 vada… Ducorriamo… Proddio d'accommodo, reticemi, reticemi, reticemi… a a a a a la e a 1, 2, 3, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10.